buongiorno a tutti ragazzi e bentornati al canale be world 2.3 che cosa parleremo parleremo del 52esimo episodio dell'era glaciale le avventure giusto e nel recente episodio abbiamo portato l'artigianato a un livello un po più alto la quale non mi ricordo ma qua nel recente episodio avevamo sbloccato cosa una nuova isola giusto sempre nelle isole sussuranti un nuovo capito va quindi potremmo fare qualcosa di diverso perché così non ho nessun titolo da dare a meno che lo registro a metà e poi riproseguo su questo posso fare comunque vi auguro una buona visione poi si vedrà eccoci qua ragazzi nel 52esimo episodio dell'era glaciale le avventure magari le avventure poi me lo farò da solo in sandapace comunque vediamo cosa possiamo fare esploriamo la nuova terra ghiandre perfetto un gabbiano magari lo salviamo dopo no non ci credo fra nove ore ma che è è assurdo raga e se salvo il gabbiano purtroppo qua niente si può fare torniamo a casa e vediamo cosa riusciamo a fare che così farò un video a vuoto è 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 es Vediamo cosa riusciamo a fare. E vabbè, andiamo a esplorare l'oasi. Non dirmi che è un vicolo cieco. Ti pareva? Sono cascato nella trappola. Vabbè, andiamo a esplorare l'oasi. Vabbè, andiamo a esplorare l'oasi. Vabbè, andiamo a esplorare l'oasi. Non mi dire che ho commesso un'enorme sciocchezza. Tanto le recupererò con gli eventi. E' gigante, dando spesso. Vabbè, andiamo. Purtroppo non basta. L'altra oasi. E vediamo cosa andiamo a trovare. Un'altra oasi. Un'altra oasi. Un'altra oasi. Un'altra oasi. Un'altra oasi. Un'altra oasi. E ho trovato un manoscritto. Un'altra oasi. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Vediamo. Sì. Possiamo arrivarci. Sì. 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 Ottimo lavoro. Ci siamo riusciti. Sì. 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 Non bastano. Purtroppo. Però ci siamo eh raga. Ci siamo. Dai facciamoci un'altra cosa dell'oasi. Sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Comunque torniamo a casa e ora sì che possiamo fare qualcosa di diverso. Andiamo qua. Dov'è il gabbiano? Avanti. Avanti. Great combo! Andiamo! Andiamo! And... Andiamo! 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 Andiamo!